Capitolo 6. Processo. Badenhof. Inizio inverno 1709. Ursula si svegliò di scatto e si tirò a sedere. Un rivolo d'acqua ghiacciata era filtrato dalla finestra ed era scivolato sul pavimento per poi raccogliersi sotto i suoi piedi. Li scosse per scrollar via l'acqua, poi si alzò dal suo zaciglio e una forma scura che si trovava in un angolo della cella scappò via. Ursula, benché scalza, si diresse verso di lui. Il ratto correva sul pavimento ma lei fu più veloce. Lo afferrò per il collo, gli spezzò la schiena e buttò il corpo che si contorceva sulla pila di topi uccisi durante la settimana. Aveva guadagnato due scellini e mezzo, molto più della settimana precedente. Tuttavia sembrava che la prigione fosse completamente invasa da quei parassiti. Guardò fuori dalla finestra e vide che a giudicare dalla luce non mancava molto all'alba. Era il momento della preghiera. Aprì la porta della cella e uscì cercando di non disturbare gli altri prigionieri. Non sapeva quanti fossero precisamente gli altri sfortunati che si trovavano là sotto con lei. I piani più bassi erano un dedalo di segrete, corridoi e celle. Gran parte dei prigionieri sembrava passare molto tempo in cella. Ursula li vedeva raramente in cortile. Erano persone dal viso scarno e asciutto. Alcuni borbottavano da soli, altri sembravano abbastanza sane di mente da evitarla. C'era una donna che gridava nel sonno, bestemmiava contro il nulla, parlava con le ombre e balbettava qualcosa come «amica dei topi». Ursula aveva chiesto a Loul informazioni su di lei. Aveva saputo che si chiamava Alice e che era stata incarcerata molto prima che lui prendesse la direzione di quel posto, dieci anni prima. Ursula decise che aveva saputo tutto quello che le interessava. Erano già passati due mesi. Dopo la rabbia e la paura iniziale, aveva cominciato a vivere secondo una routine ben precisa, proprio come era sempre accaduto quando le avversità della vita si erano accanite contro di lei. Il custode della prigione, Dirk Lowell, aveva tenuto fede alla parola data. Certo, la vita nella prigione non era confortevole, ma almeno era sopportabile. Non era di sicuro l'esperienza peggiore della sua vita. In passato aveva patito molto di più la fame e il freddo, e qui almeno nessuno la picchiava regolarmente come succedeva quando viviva con i nonni. Camminò lungo il corridoio, scese la rampa di scale e aprì il cancello che dava sul cortile. La pelle le formicolava dal freddo, il terreno era coperto di neve che le intorpidiva i piedi e che si sarebbe sciolta alle prime avvisaglie di primavera. Respirò l'aria fresca dell'esterno e sentì l'odore di fumo. Alzò lo sguardo e vide che oltre il muro si innalzava una grigia colonna vaporosa e ondeggiante. Era il terzo incendio in pochi giorni. Ursula pensò di chiedere informazioni all'oul in proposito. Tuttavia, mise da parte i pensieri riguardanti i tumulti oltre il muro e si dedicò al suo compito. Non c'erano fiori nella prigione, ma Ursula grattò con le unghie e i licheni rossi dalle crepe che tra le pietre dell'edificio si potevano intravenire. Dopo averne raccolto una manciata, si diresse verso l'antico santuario dedicato a Sigmar. Era una stanza di pochi metri quadrati ed era così bassa che Ursula poteva stare ritta a stento. La fiocca illuminazione era assicurata da due stoppini fumosi immersi nel grasso animale. Lowell si era ammesso a ridere quando lei gli aveva prestato la prima dozzina di ratti morti e gli aveva detto che, invece del denaro, voleva gli stoppini e l'acciarino per illuminare il piccolo santuario. Il custode le aveva risposto che la protezione di una coperta e un pasto caldo sarebbero stati molto più utili di quella di un dio lontano. Ursula aveva risposto che era proprio quello il momento per rivolgersi a Sigmar con più ardore, visto che sembrava fosse stata abbandonata da tutti. A quelle parole l'uomo si era zittito e il giorno dopo era tornato con l'acciarino e le lampade. Ursula compose una piccola ghirlanda, poco più grossa di un braccialetto. Si inginocchiò davanti al muro e fissò l'effigie, lavata e ripulita del martello di Sigmar. Si portò le mani al petto e cominciò a pregare. A mano a mano che pregava, il freddo scivolò via dal suo corpo e le fiammelle delle lampade diventarono come una stufa. Era concentrata sul martello, ma i suoi occhi erano puntati sulle fiamme che danzavano, mosse dall'aria fredda. Per un attimo le fiammelle sembrarono avvampare con più forza e calore, facendola trasalire e riempendo le narici del puzzo di carne bruciata. Si alzò di scatto e sbatté la testa contro il soffitto. Il colpo le fece fischiare le orecchie. Rimase intontita per un secondo. Poi qualcuno le afferrò il braccio e le si girò pronta a graffiare il viso dell'assalitore, ma si fermò un attimo prima di piantare le unghie negli occhi di Dirk Lowell. Calma! esclamò il custode, facendo un passo indietro. Mi dispiace di averti spaventata. Scusate, ho abbattuto la testa. Si schermì Ursula. Ho visto. La rassicurò Lowell, che sembrava distratto. C'è qualcuno che vuole vederti? Me? replicò Ursula, tranquilla. Sentì il cuore che mancava un colpo. Forse Kurt era tornato. Portatemi da lui. Lowell annui e la guidò attraverso il cortile e l'edificio fino all'entrata che si trovava ai piedi della scalinata. Aprì il cancello e la fece entrare. Là, disse l'uomo, indicando il suo ufficio. Ursula aprì la porta e schizzò dentro la piccola stanza con un accenno di sorriso sulle labbra, un'espressione di gioia che scomparve nel momento in cui si rese che il visitatore non era Kurt. Nella stanza c'era la scrivania di Dirk e un paio di sedie. Su uno scaffale era allineata una fila di bottiglie vuote da cui spuntavano i mozziconi di numerose candele. Dietro la scrivania di Lowell stava un uomo alto, intento a esaminare alcuni documenti a capochino. Era vestito con un lungo mantello di cuoio, maglia e brache scure. I capelli grigi erano lunghi e racchiusi in una coda di cavallo. Il viso era sfregiato e segnato, gli occhi cupi e calcolatori. Sulla scrivania era posato un cappello a larga tesa, decorato con una penna nera. Marius van Diesl sentì Ursula che entrava e si drizzò, gratificandola di una fredda occhiata. Era giovane e molto carina, nonostante fosse vestita con gli stracci della prigione e avessi capelli in disordine. Non somigliava di certo alle brutte streghe del folklore popolare, ma lui sapeva bene che l'apparenza poteva trarre in inganno. In quel momento, però, il suo istinto gli stava dicendo che erano arrivati a un punto morto nelle indagini. Si era diretto a Badenhof in cerca della presenza degli Skaven ed era stato accolto con una serie di accuse isteriche rivolte contro quella donna. Aveva parlato con il magistrato, il prete e altre persone, ma nonostante le accuse fossero serie. Fino a quel momento non aveva trovato nessuna prova che le supportasse. «Chi siete?» gli domandò la donna. «Perché siete qui?» Il cacciatore di streghe non replicò immediatamente, preso un po' la sprovvista da quei modi di fare diretti. La presenza di spirito di Ursula l'aveva meravigliato. Era in prigione, portata di fronte a un estraneo e tutt'altro che indifeso. Eppure si era presa al vantaggio di essere la prima a fare una domanda. Una mente così forte poteva benissimo aver agito nei modi infidi di cui era stata accusata. «Sono Mario von Diesel», le disse, aggiungendo un accenno di inchino e sperando che la donna non lo scambiasse per un gesto di scherno. «Il cacciatore di streghe?» gli chiese lei, impassibile. «Così mi chiamano». Ammise, chiudendo la porta. A lui non piacevano molto né quel titolo né tutte le connotazioni che esso implicava per la gente sospettosa che viveva nell'impero. «Preferisco considerarmi un difensore della purezza e un cercatore di verità». «Pensate che io sia una strega?» chiese Ursula, diretta, dando l'impressione di aver ignorato la risposta. «È per questo che siete qui?» «Non ho ancora deciso che cosa sei», rispose Marius, sincero. Certo la stregoneria stava prendendo piede, ma era anche vero che per ogni strega che bruciavano c'erano almeno dieci uomini o donne che venivano rimessi in libertà perché innocenti. «Sono qui per accertare la verità». «E come pensate di farlo?» chiese Ursula, in tono accusatorio, temendo la tortura o qualche altro violento metodo di interrogatorio. «Voglio solo parlare», rispose Marius, calmo, indicando la sedia nell'angolo della stanza con un cenno della mano. Ursula si sedette, incerta, e cercò di aggiustarsi senza successo i capelli e di lisciare la lunga gonna spiegazzata. «Tra tutti i crimini che ti hanno mandato in prigione c'è anche quello di stregoneria», sentenziò Marius, sedendosi sul bordo del tavolo. «Tutte stupidaggini, frutto del livore di una donna contorta». Lo interruppe Ursula, astiosa. «Ma a quale scopo muovere accuse tanto infondate?» chiese Marius, ponendo una certa enfasi sulla parola infondate. «Perché non riesce a digerire il fatto che io sia innamorata dell'uomo che lei pensa sarebbe adatto per sposare sua figlia», replicò Ursula. «E' da due mesi che sono in questa prigione a causa del suo disprezzo e dei complotti di suo cognato». «Complotti?» ripete Marius, avventandosi sulla parola come un cane da caccia. «Questa non è una parola da usare alla leggera». «Sono proprio questo invece, complotti!» affermò Ursula. «Lui è il magistrato e mi ha praticamente detto in faccia che mi stava sbattendo in galera per risparmiarsi il supprizio impostogli dalla moglie». «Non pensi sia un motivo piuttosto frivolo? Che cosa ti fa pensare che io possa crederci?» indagò Marius, guardandosi intorno con aria distratta. Era solo una finta. In verità era pronto a cogliere anche il più piccolo accenno di falsità o esitazione nella voce di Ursula. «Non posso fare altro che dire la verità», affermò Ursula in tono piatto. «È la tua unica difesa?» sbuffò Marius in tono irridente. «Per metterla alla prova». «La verità avrebbe ben poco peso di fronte a un tribunale. Il magistrato mi ha parlato di te e dei crimini che hai commesso. Disturbo della quiete pubblica, stile di vita immorale. non sono accuse da prendere alla leggera». «Non posso fare altro che dire la verità». «Ripete Ursula lentamente». «Ho fiducia nel fatto che Sigmar guidera la sentenza nel mio giudizio. Così come fa con me. Non sono certo la più pura tra le persone, ma non sono né una strega né un'eretica». «La fiducia in Sigmar è un lusso molto raro di questi tempi. Forse preferiresti appellarti alla protezione di Shalia o del vecchio lupo in persona, Ulrich». Suggerì Marius. Aveva parlato con Lowell, che gli aveva raccontato di tutte le attenzioni che la ragazza aveva nei confronti del santuario all'interno della prigione. Il cacciatore di streghe, però, aveva conosciuto molte persone furbe e non escludeva che quella donna piena di risorse avesse costruito una bella rete di menzogne e inganni riguardo al suo credo. «Antichi dei, barbari». «Ursula liquidò i suggerimenti di Marius». «Dov'erano quando gli orchi uccidevano i nostri bisnonni? E gli uomini del nord saccheggiavano le terre? E sacrificavano i nostri antenati e i loro signori assetati di sangue?» «No, solo Sigmar ha triunfato su quei mali e sarà Sigmar che triunferà contro quelli che mi stanno attaccando». «Non vedete che sono qui a causa dell'invidia e della gelosia degli abitanti di questa città?» «Tutto sarà constatato a tempo debito». Rispose Marius, criptico, ricorrendo a una delle sue frasi preferite. «E cosa vuol dire?» superstiziosi o di qualche vecchia pettegola. Marius sorrise torvo, anche se era rimasto impressionato dal modo di fare deciso della ragazza. Non era sulla difensiva, ma neanche aggressiva. Entrambi i comportamenti lo avrebbero reso sospettoso, perché erano un segno che l'altra persona stava cercando di nascondere qualcosa, dimostrandosi evasiva o spaccona. Quella ragazza però era diversa. In lei ardeva una fiducia incrollabile, un'attitudine fresca che la rendeva ancora più attraente. Mise da parte quei pensieri e si andò ad accomodare sulla sedia dietro il tavolo, prendendosi così qualche secondo per pensare. «Sono un prete di Sigmar», le confessò in tutta onestà. Infatti era stato ordinato prete nella cattedrale di Nuln circa venticinque anni prima. «Forse adesso ti fiderai più di me?» Ursula rimase tranquilla e quella reazione lasciò perplesso Marius. Si era aspettato una reazione che sfidasse la sua legittimità o una seconda accusa relativa alle sue mire, ma non accadde nulla di tutto ciò. La guardò e la vide con gli occhi rivolti al pavimento, che giocherellava con la gonna. Per un momento pensò che quel gesto tradisse la colpa che stava cercando, ma a mano a mano che la guardava dovette cambiare idea. Quella non era paura, era docilità, non certo assoluta, è vero, ma non c'erano dubbi sul fatto che si trattasse di una forma di ubbidienza devota. Lui aveva dichiarato di essere un prete e il modo di fare della ragazza era cambiato. «Il fatto che io sia un prete ti spaventa?» le chiese gentilmente. «No», rispose Ursula, alzando lo sguardo. «Se voi siete un prete di Sigmar, come dite di essere, allora saprete che egli protegge coloro che lo amano, quindi non devo temere neanche nessuno». «Ho parlato con fratello Theobald», le disse Marius. La sua era una frase a effetto, per sondare le reazioni della ragazza, che tuttavia continua a rimanere ferma nei suoi intenti. Mi ha riferito del tuo rituale mattutino e il custode mi ha detto che lo ripeti ogni giorno da quando sei arrivata qui. «Non ne ho mai fatto segreto con nessuno», disse lei, in tono piatto. «Non c'è nulla di sbagliato in tutto questo, è solo un rituale che eseguo fin da quando ero bambino». «Ho visto diverse versioni di quel rito in passato, ma mai così vicino a Badendorf». «Ammise». «Devi aver veggiato molto nella tua vita». «Sì», disse Ursula, e per la prima volta una sorta di esitazione trapelò dal timbro della sua voce. «Mi stai nascondendo qualcosa!» urlò Marius, battendo una mano sul tavolo. Il cacciatore di streghe cambiò approccio e girò intorno al tavolo. «Cosa succede? Che cos'è che non mi stai dicendo?» «Niente», rispose Ursula, tornando a fissare il pavimento. «Sono orfano. Ho passato molti anni a vagabondare in cerca della felicità. Pensavo di averla trovata qui, ma sembra che sia stata privata anche di quella poca che avevo». Marius si aspettava di vedere una lacrima che scendeva lungo la guancia, o qualche altra trovata teatrale, ma non avvenne nulla del genere. La ragazza aveva semplicemente riferito un fatto. Il cacciatore di streghe la incalzò. «E basta?» le chiese, afferrando l'elmento tra le dita e costringendolo a fissarlo. «Non hai mai maledetto nessuno in segreto? Non hai mai pregato i poteri proibiti nella speranza che ti potessero liberare quando sembrava che anche Sigmar ti avesse abbandonato?» «Sigmar non mi ha mai abbandonato!» replicò Ursula, allontanando la mano per alzarsi. «De solito i preti dovrebbero aiutare. Ma voi! Vi prendete gioco di me, facendomi notare fallimenti della mia vita e accusandomi di cose terribili che neanche conosco. Che razza di preti siete!» Le lacrime si raccolsero negli occhi della ragazza, ma si trattava di lacrime di tristezza e frustrazione. Marius aveva un momento di debolezza e per un attimo fu tentato di allungare una mano e stringerla a sé. Era una donna forte, ma anche molto vulnerabile. Il cacciatore di streghe si fece forza e resistette, perché sapeva di essere vicino alla verità. «E non hai mai desiderato di fare del male a qualcuno?» le chiese bruscamente. Ursula lo fissò in Cagnesco. «Certo che l'ho desiderato! Chi non l'ha mai fatto?» ammise, continuando a piangere. «Quando i miei genitori morirono e mio nonno mi picchiò per la prima volta, andai a letto e pregai Sigmar affinché una grande cometa a due code cadesse sulla sua testa. Quando ero povera e affamata e vagavo per le strade, desideravo che i nobili che mi passassero vicino nelle loro carrozze, schizzandomi con il fango, andassero in rovina. Certo, ho fatto brutti pensieri sugli altri, ma erano lettati solo dalla rabbia e dalla miseria, non da un desiderio genuino di far loro del male. Se pensate che tutto ciò sia malvagio, allora fate di me quello che credete meglio». Era una bella risposta, e Marius le credeva, ma ora doveva compiere l'ultima prova per essere certo. Prese la collana con il martello di Sigmar che teneva sotto la maglia. Era un monile non più grosso di un pollice, e mentre se lo sfilava dal collo, vide lo sguardo di Ursula che passava dalla collana al suo viso, cercando di capire cosa stava per succedere. «Prendilo in mano», le ordinò, offrendo la miniatura a Ursula. Lei ubbidì condità tremanti, mentre le fissava con intensità. Non c'era nessuna reazione, nessun segno di dolore o angoscia, solo nervosismo. Marius Van Diez riprese il suo talismano e diede le spalle alla ragazza. Ursula Sheck non doveva rispondere di nulla, forse solo di una certa libertà di spirito e mancanza di educazione, dovuta alla scarsità di contatti sociali. Se lui sapeva fare bene il suo lavoro, quella non era una strega. Il suo intuito, però, gli diceva che c'era qualcosa di più di quello che sembrava. Perché era proprio lei, tra tutti gli abitanti della città, quella prescelta per essere perseguitata? E perché tutto ciò era avvenuto alla luce solo ora, poche settimane prima che lui arrivasse? Forse aveva avuto ragione. Lecarsi a Badenhof era stata una bella mossa, perché in quella città dall'aspetto pio doveva esserci dell'altro. Fissò Ursula e vide che stava tremando, con una lacrima che le solcava la guancia. È finita? Gli chiese in tono esitante e spaventato. Sì, non hai più nulla da dimostrarmi. Le disse e lei avanzò di un passo. Grazie, grazie, gli disse Ursula, sprofondando la testa nel suo petto. Marius si permise di rilassarsi e le cinse le spalle con un braccio. La ragazza si inghiozzò per qualche istante, poi si ritrasse e si asciugò le lacrime dalle guance. Sigmar ci protegga. Borbottò Marius, ricordando le grandi parole dorate scolpite sopra il portale principale della cattedrale di Nuln. Avrebbe tenuto la ragazza con sé per conquistarne la fiducia e avrebbe atteso lo svolgersi degli eventi. Nel frattempo, comunque, doveva tenerla al sicuro da chiunque voleva che lui fosse distratto dal suo vero compito. Aveva la netta sensazione che Abadanoff avrebbe trovato la chiave per risolvere il mistero degli Skalen. Una folata di vento freddo entrò nella casa, accompagnando Marius che entrava. Il cacciatore di streghe pulì gli stivali dalla neve mista a fango, battendoli a terra. Appese cappello e mantello a un gancio sul muro e sbatté la porta richiudendola. Ursula lo guardò, sorrise, poi versò nella scodella la minestra che bolliva sul camino e la posò sul tavolo, mentre Marius si toglieva gli stivali con un sospiro. Sentì i passi pesanti di Ruppet che scendeva dalla scala e si affrettò ad aggiungere un'altra scodella di minestra. I due uomini rimassero seduti in silenzio, mentre Ursula si preoccupava di portare pane e formaggio. Dieci giorni prima Marius l'aveva liberata dalla prigione e ora lei fungeva da governante per il cacciatore di streghe e il suo braccio destro, che avevano trovato alloggio in una casetta accanto al santuario di Sigmar. Gli altri uomini erano alloggiati nelle varie taverne e case di Badenhof con il compito di stanare i cospiratori. Ursula aveva notato i sussurri e gli sguardi in tralice quando entrava a fare spesa, ma fino a quel momento sembrava che la compagnia intimidatoria di Marius le avesse risparmiato parecchi guai. Ursula pregava ogni giorno perché Curto tornasse sano e salvo e perché i problemi della città finissero in fretta. Ogni mattina doveva sopportare l'occhiata glaciali e la silente derisione di Fraulinde che l'aspettava davanti alla porta del santuario. Ruprecht finì di mangiare, spostò la scudella e starnutì rumorosamente mentre si inclinava all'indietro con la sedia. Darius ha trovato il corpo di Herstein, riferì, lanciando al contempo un'occhiata a Ursula che si affrettò a sparire in cucina per lasciarli soli. Cominciò ad armeggiare con pentole e piatti, cogliendo parti della conversazione. Dov'era? Chiese Marius. Questo è il fatto più singolare, era dall'altra parte della città rispetto ai suoi magazzini, spiegò Ruprecht. E non era un bello spettacolo. L'abbiamo tenuto coperto e la ronda non ne sa nulla, ma era infettato dalla peste. Ma è morto d'infarto. Per Sigmar, ma com'è possibile prendere la peste dopo morti? Disse Marius. Non ne ho la minima idea. Borbottò Ruprecht finendo la minestra. Forse la prima volta non era morto davvero. Dici? Azzardò Marius. Suppongo che non ci sia modo migliore al mondo che quello di fingersi morti, per poter continuare le proprie attività losche. Ma perché attirare l'attenzione di tutti facendo scoperchiare la tomba? Non ho tutte le risposte. Disse Ruprecht. Certo che no. Nessuno di noi le ha. Ammise Marius. Due settimane e non siamo riusciti a ottenere neanche la minima traccia di attività degli Skaven. Solo qualche sospetto e alcuni eventi bizzarri. Oggi è andata meglio? Non abbiamo trovato nulla nel quartiere sud. Si lamentò il gigante, mentre Ursula tornava con un piatto di rape e patate arrosto. È come se in questo posto fosse passata un'orda di orchi. Un edificio su cinque ridotto a una rovina fumante. Tutta suide ne strasse una pila di macerie. Quando la gente del posto ha saputo che in quella via vivevano degli appestati al lato fuoco a tutti i palazzi, prima che la ronda potesse arrivare. Anche i becchini si lamentano per il troppo lavoro. Ma sono tutti impazziti? Chiese Ursula, risentita, servendo il cibo. Beh, in un certo senso sì. Ammise Marius, ripulendo gli ultimi avanzi di minestra dal fondo della scodella con un pezzo di pane, per poi prendere le verdure. La gente è come le pecore e ha bisogno di un buon pastore. Badenhoff è nella morsa di uno strano malando, i cui sintomi sono la paura e il sospetto. Hanno fame, freddo, sono isolati. La gente è terrorizzata e sta cercando una soluzione ai suoi problemi. Alcuni individui si sono scatenati e gli altri li hanno seguiti. La città sta cadendo preda all'isteria, che è alimentata dall'incertezza. I governanti della città non stanno facendo nulla. La situazione non può che peggiorare. Lo abbiamo già visto succedere altre volte, confermò Ruprecht, scuotendo la testa, triste. Il vero problema è che questa situazione non fa altro che vanificare il nostro lavoro. Mentre tutti gridano strega, strega, indicando il vicino, i veri colpevoli possono nascondersi dietro la confusione e l'anarchia. Quindi, dovete scoprire chi potrebbe trarre profitto da questa situazione. Suggeri Ursula. Forse potrei aiutarvi se mi diceste il motivo che vi ha spinto a venire qui. «Forse sì. Forse no», replicò Marius, solenne. «In questa storia non è implicato solo chi l'ha istigata, ma anche ogni sorta di profittatore opportunista. Gente dalla mente limitata, che cerca vantaggi personali, come è successo tra Fraulinda e te. In certi momenti temo che la mia presenza non abbia fatto altro che accelerare la decadenza e il disordine. Ho dato loro un nuovo capro espiatorio, visto che ogni giorno ricevo accuse e lamentele. Ah, meglio se ne stai fuori. I sentimenti che scateni potrebbero solo complicare ulteriormente la situazione». «La nostra presenza può aver scatenato tutta questa follia», aggiunse Ruprecht. «Appena si annusa la presenza di un cacciatore di streghe, tutti cominciano a chiedersi improvvisamente perché è arrivato e saltano fuori i pregiudizi e le superstizioni». «Come fate allora di stricarvi in questo dilemma?» «Chiese Ursula, infastidita dal fatto che non avessero fiducia in lei». «A essere onesti, in questo caso la situazione richiede qualcosa di più che un semplice rimedio». «Ammise Marius, sconsolato». «Abbiamo bisogno di pazienza e anche un po' di fortuna. Può anche darsi che gli unici problemi della popolazione siano davvero la fame e le partite. E in questo caso dobbiamo esserne ben sicuri prima di ripartire». «E dobbiamo stare in guardia», aggiunse Ruprecht in tono ottimista. «Se siamo diligenti qualcuno potrebbe saltare fuori. La cosa veramente importante è essere pronti per quando succederà in modo da agire rapidamente». «Fortunati? Preparati? Qualcuno che può saltare fuori?» esclamò Ursula esasperata. «Ma che significa?» Marius e Ruprecht si fissarono e scrollarono le spalle. Non c'era nient'altro da dire. Quasi un terzo di Badanov era ridotto in macerie e le zone più povere della città erano totalmente fuori controllo. Alcuni elementi della ronda cittadina erano di poco migliori rispetto alla folla assetata di sangue che si supponeva dovessero tenere a bada. Marius aveva detto a Ursula di non uscire. Ruprecht le aveva detto che era preoccupato per lei ed era convinto che l'ira della gente non fosse diretta contro di lei, solo le pettegolezzi acidi di Fraulinda. L'aveva raccontato alcuni dei luoghi comuni sulle persone con i capelli rossi e sembrava che qualcuno stesse fomentando i moti e la violenza al fine di nascondere le sue attività funeste. Purtroppo, Marius e la sua gente non erano neanche vicini a identificare quella persona. Ursula non si preoccupava troppo perché sapeva di essere innocente e qualsiasi cosa avessero provato a fare i suoi nemici, Sigmar l'avrebbe protetta. Passarono altri due giorni, nel corso dei quali Ursula continuò ad occuparsi delle faccende di casa per il cacciatore di streghe e il suo luogotenente. Di tanto in tanto arrivavano altri membri del gruppo per riferire le loro scoperte, ma le novità erano poche e nella maggior parte dei casi gli uomini si lamentavano per le interferenze della ronda, la violenza della folla e l'inettitudine, o compiacenza, dei governanti della città. Era giunta la notizia che le città vicine si trovavano più o meno nella stessa situazione e che tutta la parte settentrionale dell'Ostermark stava per rivoltarsi. Ursula non realizzò quanto fossero malmessi fino al momento in cui Marius entrò in casa rapidamente poco prima di pranzo, seguito da Ruprecht e da altri due uomini. Ursula, che stava pulendo il pavimento vicino alla stufa, si alzò stupita. Qualcosa non va? La faccenda si è fatta seria, ringhiò Ruprecht. Anzi, molto brutta a dire il vero. Mettiti qualcosa di caldo, dobbiamo andare via. Perché? Domandò Ursula, indignata. Da cosa dovrei scappare? Basta con le discussioni, sbottò Marius. Gli eventi hanno preso la peggiore delle pieghe per tutti noi. I nostri nemici sono manipolatori e anche abilissimi. Sembra che l'interesse nei tuoi confronti non stia scemando e lo stiano usando contro di me. Sospetto che ti abbiano usata, usata come capro espiatorio fin dal momento in cui sei arrivata e sono sempre più convinto che c'è qualcosa di molto oscuro che si muove in questa città. Ma adesso forza, dai, preparati a partire! Non andrò da nessuna parte finché non mi dite che cosa sta succedendo, dichiarò Ursula, incrociando le braccia sul petto con aria ostinata. Hanno mosso alcune accuse riguardo al nostro, come dire, accordo, borbottò Marius fissando la finestra. Lo strepito delle urla aumentava ad intensità. Il nostro accordo, fece il verso Ursula. Immagino le cose odiose che saranno uscite dalla bocca di streghe come merelde. Non hanno mai creduto che potessi fare qualcosa di buono. Ho visto come mi guardano e come sussurrano tra loro quando sono uscita. Ma ne ho avuto abbastanza! Posso convivere tranquillamente con i pettegolezzi di qualche vecchia peghina, disse Marius, serio in volto. Le fece cenno di avvicinarsi e di guardare fuori dalla finestra. Ursula scorse un gruppo di circa quindici uomini che correvano giù per Sigmar Strasse. In mezzo a loro vide alcune fasce rosse che indicavano la presenza di uomini della ronda. Ursula si girò, si diresse verso la porta, evitando le braccia tese di Ruprecht, che cercò di bloccarla. La spalancò e attese che la folla si radunasse di fronte alla casa. Non avete da lavorare? Chiese loro Ursula. Potrai anche aver ammaliato il cacciatore di streghe con un incantesimo, ma non annebbierai le nostre menti! Quello che parlava era un uomo di mezza età che stava davanti a tutti. Era basso e magro, con una grossa pustola sul lato sinistro del naso. Ruprecht spinse da parte Ursula e cominciò a parlare con la folla, mentre Marius si avvicinava. Lascia fare a noi, ragazza impulsiva! Le sibilò in un orecchio il cacciatore di streghe, temendo che la situazione gli sarebbe sfuggita di mano se non avesse ripreso il controllo. I gesti avventati di Ursula potevano mettere tutti in guai molto seri. Quello è Heiger Winkler, il capo usciere della corte. Questa non è solo una folla rumorosa, stupida ragazzina! Le parole di Mario scolpirono Ursula come uno schiaffo e la ragazza arretrò. Rimase in silenzio per un attimo, prima di spingere da parte il cacciatore di streghe Ruprecht e pararsi di fronte alla folla. Cosa volete da me? Urlò. Alcune persone, tra le quali Winkler, erano entrate nel giardino. Non ho fatto nulla di male. Allora non ti darà fastidio affrontare un pubblico processo, rispose Winkler facendo un passo avanti. Tu conosci le accuse. Un processo? Sbottò Ursula. Sarebbe solo una farsa. Non farlo, la mise in guardia Ruprecht. Attenta. Il magistrato Fenster aveva previsto una simile eventualità, le disse Winkler, che si era allontanato leggermente dalla folla, tenendo le mani chiuse di fronte al petto come un topo che sorveglia il suo cibo. E per consentire a te di mettere da parte i tuoi dubbi e a Ervan Dias li salva a guardare il suo nome, il magistrato Fenster ha proposto che il processo sia presieduto dal cacciatore di streghe. A che stupidaggini sono? Esclamò Marius dalla soia. Poi si girò verso Ursula. Non abbiamo nulla da dimostrare qui. Qualcuno sta cercando di ingannarti. Che cosa dicono? Chiese Ursula, rivolta al cacciatore, per poi lanciare una rapida occhiata a Winkler. Non è importante, ragazza, le disse Ruprecht. Cosa dicono? La voce di Ursula era ridotta poco più di un sibilo. Che ti sto proteggendo in cambio di certi favori di natura fisica. replicò Marius dopo una lunga pausa. Mi avresti stregato, costringendomi ad accettare l'accordo. Non ci fare caso. Insistette. Ursula bruciava di rabbia. Si girò verso la folla e si diresse da Winkler. Sosterrò il processo. Sputò Ursula, avvicinando il viso a quello dell'uomo. Questa città capirà chi sono i veri responsabili di questa situazione. E quando sarà il momento? Io sarò presente, per vedere i giudici che li sbatteranno in galera a marcire. E con questo ci ha fregati. Borbottò Ruprecht, alle spalle di Ursula.